Quest'oggi vi porto con me a vedere come si viaggia per andare fino al conservatorio e mi riferisco ovviamente alla succursale ovvero Villa Favardo o Favardo chiamatela come volete vi farò vedere come ci vado ovviamente in treno ovviamente partenza da Empoli, cambio repentino a Rifredi raramente a Santa Maria Novella anche perché è una stazione ancora troppo grande per i miei gusti prima o poi affronterò il rischio ma per adesso si cambia a Rifredi e si va a Rovezzano ETR 425 Jets, raro su questa linea, la Pisa Empoli sostituisce il complesso di medie distanze con in testa la pilota WCX Siamo in arrivo a Montalupo, Capraia Oh, stavassi che buongiorno, ma sei a casa o al volo? Eh, 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 va bene, adesso ti po' mi sto arrivando ora Ok, com'l'è noi e gli s'apato che tu ti lo so spiegato, eh Eh? Si, pagava, eh, però, se per un trenetto andranno fare una stardosa sola, eh Eh? Grazie. 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 Si tratta della stazione di Signa. La stazione, quella moderna, quella di lastra a Signa, si trova sulla linea moderna sotto la quale passeremo poco più tardi. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Le piagge identiche a San Donnino Badia Da considerare il fatto che quest'ultima Un tempo non era nelle condizioni attuali Vi dico soltanto che Il nome era scritto su un foglio Bianco e non dimentichiamoci Del fatto che per un certo periodo era stata Pura e dismessa In ogni caso ottime queste stazioni Per un bel po' di transiti da riprendersi E' 140 all'ora Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti I viaggiatori troveranno 9 di Trenitalia per Livorno Centrale 11 e 44 Al binario 9 Passaglio Adesso circa una mezz'oretta di attesa E avremo il prossimo treno diretto a Montevarchi Di conseguenza passante quel Rovezzano Laggiù Prima carrozza Vivalto in livrea prima classe E questa volta è proprio una prima classe secondo me Probabilmente arriva dall'Emilia Capiamoci Si tratta della livrea con la striscia gialla Sul piano superiore Quel Vivalto è di prima classe Grazie a tutti 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 Grazie a tutti